Ok, al campo ci trovi al primo piano Palazzina, la gorio vieni su ci siamo Noi il microfono parliamo e trasmettiamo Su campusway.it col telefono in mano Dentro la stanza c'è la NAC sul divano Capobaraca ci controlla mentre lavoriamo Proprio al computer Franci Mauro alla scaletta DJ Alpino con le cuffie a manetta Poi c'è il cigno che improvvisa Se la dorme sul puff cotto dalla sera prima Tanto è più forte lo sapete pure voi Che campione del Fruit Talent ce l'abbiamo solo noi Roby prepara la puntata caldo come il fuoco La Gio e la Ila sono sempre sotto vuoto E Lucione con retweet scrive alle celebrità Ma solo lui è un vero VIP E se non sai che cosa fare Sintonizzati sul campusway Che ti passa il pomeriggio Dopo mangiate nel RPG due risate qualche scherzo Ci troverai al microfono Tutti i giorni alla solita ora Faccio un sito all'ora E ascolta soltanto Campusway Sempre sulla cresta L'onda non si arresta Il clima è sempre festa Campusway Tutto va veloce La voce La voce di Unice Ti ascolti solamente su Campusway Siamo stati in giro per tutta l'Italia Sanremo Lecce Prato Milano Novara Pisa E chissà dove andremo Eppure come sempre senza soldi rimaniamo Non siamo toni su nigiri noi Dove paghi le risate fino a quando tu ne vuoi La passione non si compra Ma sarebbe bello se venisse sostenuta da chi conta Quest'anno 21 nuove matricole che sono appassionate All'inverosimile il prossimo che faremo Il quarto festival di Sanremo E come ogni anno non sappiamo dove e come alloggeremo In totale più di 20 laureati Sei con la lode che gira per la città La qualità non ci manca Ma ciò che ci manca è come migliorare la qualità Ogni settimana su M2O Facciamo un mini giornale radio Il nostro speaker è nazionale E altro in una radio regionale Se non sai che cosa fare Sintonizzati su Campusway Che ti passi il pomeriggio Dopo mangiate nel RPG due risate e qualche scherzo Ci troverai al microfono Tutti i giorni alla solita ora Faccio un sito all'ora E ascolta soltanto Campusway Sempre sulla cresta L'onda non si arresta Il clima è sempre festa Campusway Tutto va veloce La voce di Unice E ascolti solamente su Campusway 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 Grazie a tutti.